A Roseto un volontario dell'Associazione Guide del Borsacchio ha denunciato la presenza di liquami provenienti dalla rete fognaria cittadina nel torrente Borsacchio. Sembrerebbe infatti che uno dei quattro pozzi di sollevamento posizionati a ridosso siano fuoriuscite acque nere che hanno poi invaso il torrente. Si tratterebbe di liquami provenienti da una condotta secondaria della zona litoranea che è a un livello più basso rispetto alla rete principale. Durante le operazioni di sollevamento si sarebbe registrato lo sversamento che è stato notato dopo la pulizia degli argini del torrente che ha portato la luce in incresciosa situazione. C'è stata una situazione complessa, ci sono dei pozzi di sollevamento delle acque nere cioè delle fogne. In estrema sintesi la rete fognaria corre sulla statale a Roseto e quindi tutti i liquami che sono dalla parte diciamo mare vengono trasportati, sollevati con delle pompe immesse nella rete fognaria. Nel torrente Borsacchio che oggi non è più riserva dopo il taglio del 2012 ci sono quattro di queste diciamo pompe di sollevamento e da alcune di queste un volontario ha notato alcune diciamo fuoriuscite. A un certo punto è intervenuta l'arta, diciamo la notizia si è sparsa e diciamo sono stati fatti dei prelievi per vedere cosa realmente esce da questi pozzi. Ci sono su alcuni di questi pozzi delle tracce di resti fognari, cartigenica, liquami e nel corso degli anni a memoria tre volte dal 2013 a oggi il tratto di spiaggia di fronte al torrente Borsacchio è stato chiuso per superamento degli scherichiacoli cioè i batteri fecali. Quindi ora l'arta sta facendo gli analisi, sta studiando la situazione e cercheremo di capire a breve. Chi dovrà intervenire per mettere in sicurezza la zona? Bisogna capire di chi sono questi pozzi. Al momento io non ho conoscenza se sono in gestione a Ruzzo, al Comune o a Privati. Diciamo che di recente sono stati fatti dei lavori perché il torrente ovviamente è invaso e normalmente lì crescono canne e le canne coprivano questi tombini, questi pozzi di sollevamento. Ci sono stati dei lavori. Bisogna anche capire se ci sono stati dei danneggiamenti durante questi lavori a questi pozzi che di certo, ipotizzo, non sono abusivi perché sono grosse strutture che di certo non possono essere fatte di nascosto.